castello fiabesco ciao io sono sidney insieme a ken stiamo guardando dei video divertentissimi su tik tok ma è proprio assurdo dovremmo fare anche noi dei video su tik tok ken sì assolutamente assolutamente oh mi è venuta un'idea posso fare una parodia di federica mi sembra un'ottima idea non credo che nessuno l'abbia mai fatto prima buongiorno ken ken un nuovo giorno è cominciato ma come è soltanto ora di pranzo e già mi devo alzare normalmente non mi alzo fino a cena ma va bene per prima cosa devo fare yoga dov'è il mio tappetino di yoga il tappetino è qui kenna ma come non sai nemmeno dove si trovano le tue cose va bene per prima cosa devo fare il cane a quanto tempo ancora devo rimanere così su ken ancora due respiri e poi ti alzi oh mamma sono rimasto bloccato aiutami ecco qua mamma mia kenna da quanto tempo è che non fai attività fisica ti è accaduta questa oh giusto ok adesso facciamo qualcosa per non perdere la parrucca la posizione del loto eh aiutami che ho le gambe di legno ecco qua le mani devono stare così con i palmi all'insù e adesso mentre la tua testa si dirige verso il cielo concentrati sul tuo bambino interiore oh mamma questo è difficile è difficile che botta io questo bambino interiore non l'ho trovato sidney aiutami a rialzarmi e va bene oh grazie che razza di yoga è questo mi è venuta fame e va bene sua maestà venga a tavola arrivo stavo pensando di farti un toast con l'uovo ecco ken ti ho preparato l'uovo come ti avevo promesso ma no ti avevo detto che l'uovo non lo volevo non è di stile nel mio stomaco tutto a stile e che cosa vorresti semplicemente un caffè e un cornetto va bene le cose belle vanno fotografate anche il cibo ken va bene il caffè è pronto aggiungiamo il latte perfetto il tuo caffè e il tuo cornetto oh perché ci hai messo tanto e va bene faccio un selfie e mangio oh che buono il cappuccino il mio cornetto preferito allora sei sazia? oh sì sì caro ciao oh ehi ken ma che ci fai il vestito da donna? io non sono ken sono ken e lavoro su tik tok tik tok kenna? eh sì federica stiamo facendo la tua parodia capito capito vediamo di cosa siete capaci ti conosco molto bene cara mia davvero? beh se mi conosci così bene allora fai andare sui tacchi come me oh mi sa che ken non ci sa tanto andare sui tacchi eh ken posso provare qualsiasi cosa e va bene vediamo e va bene andiamo a vedere come se la cava la nostra ken sui tacchi dimmi ken quali scarpe ti piacciono di più? ehm queste qui gli stivali rosa togliamo le scarpe ken ecco fatto oh provo ad alzarmi in piedi oh 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 mamma mia oh 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 Pink non riesco a tenermi in equilibrio oh 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 Jesús Ho un'idea, Federica Mamma mia Ok, capito Ken, guarda Avevi detto che volevi fare dei video divertenti Ti ho portato un cagnonino Per renderli ancora più divertenti No, no, no Ma come no? Sì, sì, sì No, no, per carità No, no, per carità Ken, bravissimo a correre sui tacchi Adesso vieni a riposarti sul divano E la nostra Kenna infine ce l'ha fatta Corre sui tacchi, vai Cioè non è che ho paura, ma mi danno fastidio Kenna, calmati Il cane si è messo a sedere Eh, davvero? Sì, ti voleva solo salutare Mi piace tanto Oh, sono lusingato O cioè lusingata Però meglio che non si avvicina È la prima e l'ultima volta Che faccio una parodia di Federica Ed è giusto così Perché io sono inimitabile Ma certo Federica Ci mancherebbe E a te piace giocare a travestirti Come la nostra Kenna Mi raccomando Iscriviti al canale Per non perderti le prossime avventure Di Federica E di Ken Ciao